Benvenuti su Report Eventi Misteriosi e oggi ci interesseremo di un fatto ufologico avvenuto diversi decenni fa, noto come fenomeno Ummo. Che cos'è Ummo? Ummo è un ipotetico esopianeta dal quale proverrebbe la cosiddetta civiltà ummita o umana, secondo un termine che gli ummiti stessi affermerebbero di preferire. Alcuni sedicenti rappresentanti della massima organizzazione di Ummo, denominata Ummo Aleue, Aelleue, anzi, avrebbero preso contatto con la nostra civiltà tramite una lunga serie di lettere e documenti dattilografati, inviati per posta a persone della Terra interessate al fenomeno UFO. E qui vediamo un loro simbolo che sarebbe comparso, niente meno, che sulla pancia di uno di questi discovolanti che sono stati fotografati, secondo i testimoni oculari che appunto riportano queste fotografie. Il caso Ummo conobbe una certa popolarità in Spagna e in Francia negli anni Sessanta e Settanta. Gli autori di queste lettere si presentavano come membri di una civiltà extraterrestre proveniente appunto da Ummo e missione scientifica sulla Terra. La maggior parte degli analisti considera questo affare come una bufala particolarmente elaborata. Nel 1993, José Luis Jordan Pena, ingegnere studioso di psicologia, che fu anche vicepresidente del SEP, Società Spagnola di Parapsicologia, è uno dei frequentatori delle riunioni con viali della balena Allegra. C'è una tavarnetta dello storico caffè di Lyon a Madrid, affermò di essere l'autore di tutte le lettere Ummite. Molti ufologi, tuttavia, tra cui lo spagnolo Joan José Benitez, non so come si pronuncia, ritengono improbabile che una persona sola abbia potuto organizzare e gestire da solo nell'arco di diversi decenni un falso così complesso. Ma ora veniamo a leggere la storia di questo fatto, no? Nel 66 e poi nel 67 ci fu una prima ondata di lettere indirizzate principalmente, ma non esclusivamente, a Fernando Sesma Manzano, un funzionario di stato spagnolo a capo della Sociedad de Amigos de los Visitantes del Spazio, che era solita riunirsi appunto presso la balena Allegra. Negli anni successivi le lettere spedite diminuirono di numero mentre crebbe il numero dei destinatari, finché nella seconda metà degli anni Ottanta ci fu una seconda ondata di lettere caratterizzate da un contenuto diverso, meno tecnico e più filosofico. Le prime lettere vennero ricevute nel gennaio del 66. Secondo lo storico Mike Dash, l'affare Humo inizia invece il 6 febbraio del 66 a Madrid, giorno in cui l'ingegnere Jordan Pena dichiarò di avere avvistato un UFO ad Alouche, un piccolo centro vicino a Madrid. Secondo il testimone si trattava di un enorme oggetto circolare con tre gambe e sulla parte inferiore appunto riportava il curioso simbolo che abbiamo visto sopra. Cioè tre linee verticali unite da una linea orizzontale, le due linee verticali esterne erano nella parte alta curve verso l'esterno, per cui il disegno assomigliava al simbolo del pianeta Urano. Si tratta dello stesso simbolo con il quale i supposti ummiti erano soli di timbrare le loro lettere. Il racconto di Pegna generò un certo clamore, ma fu solo all'inizio. Poco tempo dopo a Madrid, l'autore di un libro sugli UFO, ci avete parecchie fotografie in una busta anonima che raffiguravano un UFO simile a quello descritto da Pegna, compreso lo stesso simbolo. Secondo la ricostruzione di Dash, poche settimane dopo l'avvistamento di Aluccio, Fernando Sesma Manzano ricevette alcune lettere da tiroscritto in cui si affermava che provenivano da una razza extraterrestre originaria del pianeta Ummo. Secondo il sito Ummo Cencias, invece, le prime lettere a firma Ummo erano già state ricevute alcune settimane prima. Entro l'anno varie persone, probabilmente a Madrid, ricevettero circa 150 documenti ummiti per un totale di circa mille pagine, quindi non poche. Ogni pagina dei documenti regava stampigliato lo stesso simbolo raffigurante tre linee verticali unite da una linea orizzontale. In seguito molte altre persone ricevettero le lettere degli ummiti tra cui lo scienziato francese Jean-Pierre Petit, ex direttore del CNRS, che dichiarò di aver utilizzato materiale ummiti per le sue attività di ricerca. L'affare Ummo ricevette ulteriore impulso dall'avvistamento di un UFO con il simbolo di Ummo avvenuto nel 1967 in Spagna, a San José de Valderas. I testimoni dell'avvistamento furono rintracciati e intervistati da Pegna. Dash rileva che pochi ufologi al di fuori della Spagna presero seriamente il fenomeno unita, dato che l'autenticità delle foto era molto sospetta e anche se il contenuto delle lettere era molto più sofisticato delle comunicazioni ricevute dalla maggior parte dei contattisti non c'era nulla che non potesse essere di origine terrestre. Si fece strada alla considerazione che potesse essere un imbroglio. L'iposesi dell'imbroglio ha preso corpo nel 1993 quando Pegna ha confessato di essere il vero autore delle lettere, ma la sua confessione non ha convinto tutti. Nel giugno 2002 uno scienziato francese ha pubblicato, con lo pseudonimo Jean Palléon, il libro Ummo, I veri extraterrestri, in cui ha analizzato il linguaggio degli Ummiti arrivando alla conclusione che è differente da tutti gli altri linguaggi conosciuti. La vera identità dell'autore che si nasconde dietro lo pseudonimo di Jean Palléon rimane sconosciuta. A seguito delle rivelazioni degli Ummiti si sono formati anche piccoli gruppi di devoti, che te pareva tra cui uno strano culto boliviano chiamato Figlie di Ummo. Sono belle, eh? Sono figlie bellissime. È tradotto in inglese, solo che hanno una caratteristica queste Figlie di Ummo. Quando si incavano hanno un cattivo umore. Hanno un cattivissimo umore per cui non ve le consiglio come sposa. Andiamo avanti, a parte gli scherzi. Un altro gruppo chiamato Ummo Science afferma di occuparsi del caso attenendosi a un metodo scientifico più rigoroso. Antonio Moia Cerpa ha perfino compilato un dizionario della lingua di Ummo. e qua vediamo una fotografia, adesso cerchiamo di aprirla. Una fotografia che ritrae appunto questo strano uffetto col simbolo Umita. Quindi è chiaro, no? Palese. Allora andiamo indietro. Questa è una delle cinque foto scattata dal Corcon il primo giugno del 1967. Ovviamente io ho anche le altre foto che vi farò vedere in una live nella quale tratterò più ampiamente del fenomeno degli avvistamenti UFO e farò vedere anche le foto di questo caso. Ovviamente sto raccogliendo del materiale per fare una live decente a data da destinarsi e da decidersi perché, come ho già annunciato, nella mia zona ci sono problemi di costanza della corrente e io non godo di un gruppo di continuità purtroppo per poter sostenere una live visto che qua la corrente è abbastanza ballerina soprattutto di sera proprio quando io voglio fare una live. Quindi è abbastanza difficile con questo problema tecnico della mia zona sostenere una live. Tanto è vero che adesso sto facendo questo vlog su Lium con il tablet. Quindi pensate, sto in Africa, anzi forse in Africa la corrente è più stabile dove abito io, vabbè. Due lettere raccontano l'arrivo degli Ummiti sulla Terra che sarebbe avvenuto il 28 marzo 1950 a Dignels Bens, vabbè, io ne pronuncio, non sono spagnolo, non so... Vabbè. Un piccolo gruppo di scienziati extraterrestri sarebbe sbarcato per... Allora, qual è lo scopo di questi extraterrestri Ummiti? Qua lo dice. Quindi dice che un piccolo gruppo di scienziati extraterrestri Ummiti sarebbe sbarcato per studiare il nostro pianeta e la nostra cultura. Cosa ci trovano di interessante? Io ancora lo devo capire. Però, vabbè, la Terra sarebbe stata scoperta dagli Ummiti in seguito all'intercettazione di un messaggio telegrafico emesso nel febbraio 1994 da un navigatore norvecese a largo dell'isola di Terra Nova. Altre lettere descrivono le condizioni di vita del loro pianeta con numerose illustrazioni. Vengono descritte la vita quotidiana, il lavoro, la famiglia, il divertimento, l'arte, l'educazione, la sessualità. Si parla anche della loro storia dei sistemi di governo che hanno conosciuto e del sistema politico attuale che considerano come socialista. Un'altra parte della lettera riguarda la filosofia, la metafisica, la religione, il concetto di Dio è spesso presente e la spiritualità degli Ummini presenta analogie con il cristianesimo. Molte altre lettere contengono argomenti scientifici descritti dettagliatamente che includono la teoria dei grafi, la teoria del campo unificato, argomenti di astrofisica, cosmologia, biologia ed evoluzione. Insomma, anche loro hanno super quark, trasmettono anche Ulisse, però non si chiama Ulisse, sul loro pianeta si chiama Umisse. Umisse... Vabbè, se non scherziamo un po'. Comunque dopo vi leggerò una di queste lettere, che ho recuperato di tre pagine, dove parlano proprio questi Ummiti. Andiamo avanti. Nei loro messaggi gli Ummiti affermano di provenire dal pianeta Ummo, distante circa 14 anni luce, dalla terra orbitante attorno alla stella Yuma, identificata come la nana rossa Wolf 424 della Costellazione di Virgo. Il termine che gli Ummiti utilizzano per riferirsi a se stessi nella loro lingua è OM. Nelle loro lettere, infatti, gli Ummiti stessi forniscono molte indicazioni sulla loro lingua, sulla loro civiltà, sui loro usi e costumi, utilizzando moltissime parole in lingua Ummita e fornendo precise indicazioni sul loro significato e sulla loro possibile trascrizione fonetica in lingua spagnola. Ecco alcuni stralci da queste controverse emissive. Questo non è il documento che voglio leggere, questi sono altri stralci, che comunque adesso vi leggerò. Primo contatto e motivazioni del viaggio. Come ho precisato nell'elettromita dotata 23 gennaio del 1948, i sistemi di rinunimento di Ummo captarono un segnale elettromagnetico a frequenza di 413,44 megacicli proveniente dal nostro pianeta. Si trattava di un segnale in codice Morse, emesso da una nave norvegese che nel febbraio del 1934 stava facendo prove di radiotrasmissioni UHF al largo di Terranova. Giunto su Ummo, il segnale venne interpretato come un codice binario inviato appositamente dall'uomo verso il cosmo e contenente presumibilmente una qualche istruzione per la civiltà extraterrestre che l'avesse ricevuto. E' interessante che adesso il segnale sia anche udibile. Tra l'altro quando va via corrente ci sta sempre questo... Vabbè va. Gli scienziati di Ummo pensarono di decifrare il messaggio nascosto nel segnale captato come la semplice rappresentazione geometrica di un quadrato. Vabbè, arrivo sulla Terra incuriositi ed eccitati. Voi immaginate che questi extraterrestri ricevano questo messaggio binario in codice Morse e loro si eccitano. Dicono, che bello, c'è vita ne... c'è vita nello spazio. Andiamo a vedere chi ci ha mandato. In curiosità decidati i massimi rappresentati del Consiglio Supremo di Ummo, denominato Ummo mi sa che sono umida pure io perchè quando... vedere che parlo un po' extraterrestre anch'io. Dopo un viaggio di pochi mesi una loro nave spaziale giunse sul nostro pianeta il 28 marzo del 1950. Cioè, questi allora hanno aspettato 15 anni, 16 anni per partire. Dice, vabbè, abbiamo ricevuto il messaggio ma... dobbiamo partire... quando partiamo? Tra 16 anni. Tra 16 anni partiamo. Vabbè, portando una delegazione di scienziati umidi che toccò terra esattamente alle 14 ore 17 minuti 0,3 secondi nell'anno di questo stesso giorno in un punto collocato a 13 km da digne a... quando hanno visto la terra hanno fatto terra, terra esattamente come Colombo quando sbarcò nell'America. Dopo alcuni giorni di prudente attesa nel corso dei quali gli umidi si invitarono a celare le loro aeronavi e preparare un rifugio nascosto ad osservare gli esseri umani da lontano voi immaginate questa scena. Loro atterrano con le loro astronavi le nascondono perché sennò voglio dire lo sappiamo questa cosa degli UFO che loro se si fanno vedere per brevi attimi da poche persone da chi vogliono perché sono dotati di sistemi di invisibilità per nascondersi e qui praticamente questo fatto noto dall'ofologia viene riportato anche in questo caso quindi loro si preparano anche il cosiddetto rifugio nascosto sicuramente a sottoterra e osservano da lontano gli esseri umani alcuni di essi organizzano un blitz notturno in una fattoria dopo averne addormentato gli occupanti prendendo in prestita a scopo di studio alcuni oggetti banali scelti con criteri decisamente bizzarri un contatore elettrico una lampadina alcune sigarette denaro scarpe vestiti sono pure ladri sono presi i sordi sono ladri e adesso adesso noi apriamo un procedimento penale io adesso contatto la magistratura gli dico un procedimento penale contro gli umidi che hanno rubato i sordi a questa povera famiglia oltre dopo averli addormentati hanno usato un sistema delinquenziale proprio caratteristiche degli umidi gli oggetti reperiti nella fattoria servirono agli umidi per comprendere meglio le abitudini degli umani e per potersi presentare ad alcuni di loro opportunamente camuffati sembra infatti che a livello fisico gli umidi non differiscono dall'homo sapiens quindi se ne incontrate uno se voi incontrate una persona per strada potrebbe essere benissimo un'ummita solo che curatevi del fatto che lui non parti perché poi dopo c'è scritto che gli umidi all'età di 14 anni perdono le corde vocali perché diventano completamente telepatici quindi non parlano però siccome hanno un apparecchio loro hanno un apparecchio sembra che parlano quindi no si camuffano bene infatti essi apparterebbero alla categoria degli alieni chiamati nordici alti biondi e con mani a 5 dita esattamente come le nostre la differenza maggiore rispetto all'essere umano sarebbe nel fatto che gli umidi hanno i polpastrelli estremamente sensibili motivo per cui essi non potevano scrivere direttamente le loro lettere quindi c'avevano uno scrivano sicuramente per questo motivo con un annuncio pubblicato sul quotidiano ABC di Madrid contrattarono un dattilografo al quale essi dettarono le loro prime lettere inoltre in età adulta a buona parte degli umidi si atrofizzerebbero le corde vocali cosa che li costringerebbe ad applicare uno strano apparecchio alla gola per poter comunicare a voce con gli esseri umani ovviamente questo apparecchio sarà invisibile quindi loro quando muovono la bocca sembra veramente che parlano e questo apparecchio dovrebbe anche avere la dote di essere ad altissima fedeltà per non essere riconosciuto vabbè un possibile scontro oggettivo nei loro primissimi giorni sulla terra gli umidi trovarono un paio di pagine del quotidiano le Figaro abbandonate sui monti da qualcuno che le aveva utilizzate come carta igienica quindi io non oso pensare queste pagine è meglio non pensare la Lettera Umita datata 20 marzo del 67 descrive in dettaglio e con maniacale precisione le illustrazioni di titoli presenti su quelle pagine che oggi sarebbero esposte al pubblico in un museo della civiltà terrestre sul pianeta Umu quindi hanno anche un museo dove ci rappresentano che gioia avere avere un posto in un museo in un pianeta alieno non non vi fa non vi non non vi inorgoglisce questa cosa vabbè a una verifica si è potuto accertare che le pagine descritte corrispondono esattamente all'edizione del giorno il quadri vabbè saltiamo dati relative al pianeta Umu proveniamo da un astro solidificato le cui caratteristiche geologiche esterne differiscono alquanto da quelle della Terra il fonema topico con cui disegnano disegniamo il nostro pianeta è OIA si può trascrivere con l'ortografia in idioma castigliano la sua morfologia vabbè eccetera eccetera tatata allora io non vorrei leggere altre cose che troppo tecniche che ci annoierebbero e non sono queste lo scopo di analizzare questo fenomeno per vedere se è vero o falso io tenderei a pensare che è un falso comunque perché è veramente molto goliardico come fenomeno cioè non c'è nulla a cui appegliarsi per dire ma questo mi ha sapore di realtà di vero di è veramente accaduto è difficile sembra più un gioco di fantascienza vabbè qua dice che le loro astronavi hanno un sistema di propulsione diverso dal nostro le solite cose qua dice una cosa interessante non fate credere in noi cioè nelle loro nelle loro lettere è chiaramente descritto questo questo invito non fate credere in noi cioè gli omiti invitano spesso i destinatari a non pubblicare o pubblicizzare il contenuto delle lettere e a usare un atteggiamento prudente per esempio mostrando scetticismo se si fossero trovati a parlare di uno in pubblico cioè quindi loro praticamente chi ha organizzato tutta questa cosa ha architettato questa cosa qui di appunto mettere avanti le mani dello scetticismo come se questa cosa qui facesse parte della volontà ummo di nascondersi dietro all'ambiguità per capirci che però potrebbe essere un artificio per un artificio un artificio per lasciare all'opinione esattamente come avviene per le religioni se questa cosa sia vera o falsa in pratica non ci danno prove incontrovertibili ma ci lasciano il dubbio esattamente come la religione per cui se tu vuoi credere a questo fenomeno allora ci credi esattamente come credi in Dio quindi tu ci credi per fede non perché hai delle prove incontrovertibili insomma in una lettera del luglio 1980 scrivono a un testamentario rimasto anonimo fino al presente i pochi casi nei quali i vostri fratelli della terra sono arrivati a pubblicare alcuni frammenti delle nostre informative l'ego è stato scarso e pertanto non pericoloso per noi non c'è motivo per pensare che quelli inviati a lei possano costituire eccezioni se realizza lo spirito più che la lettera delle nostre richieste ma se nonostante tutto lei si decisesse questo sto diventando uno lei si decidesse a pubblicarli un giorno e osservasse una reazione di eccessiva curiosità le chiedo di compensare con una sua attitudine di apparente scetticismo e crudurità quella cioè capito dice comunque invitano a simulare lo scetticismo in modo da lasciare questa ambiguità come stavo dicendo prima va bene allora andiamo a vedere questo pdf adesso andiamo a vedere questo pdf eccolo qui ce l'ho pronto apriamolo scritto piccolissimo ecco qua messaggio ummo desideriamo infornare infornare non informare ma infornare il pianeta terra nostra origine e provenienza ed i motivi che ci hanno spinto a visitarvi proveniamo da ummo pianeta che gira intorno all'astro yuma cioè il loro sole registrato sulla terra come il nome di wolf 424 il 12 gennaio 1965 era cristiana terrestre e abbiamo ricevuto istruzioni in merito ad orientamento e limiti di tale informazione e redazione approvata cerchiamo di adattarci fatte salve da insuperabili barriere di trascrizione utilizziamo la lingua spagnola le difficoltà di traduzione ed espressione di concetti lingua terrestre sono immense non nascondiamo che dopo aver constatato le sorprendenti similitudini tra le strutture biologiche dei nostri pianeti siamo rimasti consternati constatando le grandi differenze dei rispettivi mezzi di comunicazione sociale scusate ma è scritto veramente piccolo ci è impossibile in un primo documento descrivere in forma sintetica l'immensa gamma di equivalenze tra cifre simboli verbali simboli tecnici eccetera in molti casi le nostre espressioni native non presentano nemmeno alla lontana alcun equivalente delle lingue terrestri che al momento ci sono note ossia inglese spagnolo greco classico greco moderno tedesco italiano francese ed arabo quindi sanno anche che esiste il greco antico greco moderno per esprimerci utilizziamo il sistema acustico aria durante l'adolescenza il sistema telepatico psi durante l'età adulta in quest'ultimo caso le immagini mentali trasmessi e ricevute sono conformi alle immagini amnesiche di tipo acustico espresse nell'infanzia cerchiamo con tutti i mezzi di fissare in grafismo spagnolo immagini acustiche delle nostre espressioni per quanto nella maggior parte dei casi i nostri fonemi possono riflettersi in molteplici espressioni grafiche lo stile di questa lettera è abbastanza fantascientifico e letterario c'è anche uno scrittore di fantascienza avrebbe agito così nel scrivere immaginare il contenuto sostanziale di una città extraterrestre quindi è molto narrativo ed è poco probabile che questa sia una lettera scritta veramente dagli alieni anche perché io sono un lettore di romanzi di fantascienza e anche un appassionato del cinema di quegli anni insomma e lo stile è quello eh lo stile proprio del fantascienza degli anni sessanta e settanta e vabbè io vi vorrei lasciare qui perché questa lettera la leggerò in live quando farò la live sugli UFO per oggi sul caso ummo è tutto